Ciao Giovanni, sono Deleca. Visto che oggi è il tuo ultimo giorno con noi, i nostri ragazzi hanno qualcosa da dirti. Cominciamo? Ciao Giovanni, sono Alessandra. Sono fortunata di conoscerti. Le due lezioni sono molto divertenti. Alla prossima volta in Italia. Ciao Giovanni, sono Valentina. Ricordati quelle belle giornate che abbiamo passato in Siena. Ci vendiamo in Italia. Ciao Giovanni, sono Lucia. Buona fortuna. Ci manchilai. Ciao, sono Fiona. Sei il mio primo amico. Straniero. Ti auguro buona fortuna. Ciao ciao. Ciao Giovanni, sono Ivona. Devi tornare in Italia. Sei molto giovane. Spero di vederti in Italia. Bye bye. Ciao ciao. Buongiorno Giovanni, sono Mariangela. È un piacere di conoscerti. Grazie per insegnare questa volta. Buongiorno Giovanni, sono Belice. Sei un bravo insegnante. Molto felice di conoscerti. Spero di incontrarci in Italia. Ciao ciao. Ciao Giovanni, sono Marisa. Oggi è il giorno di San Valentino. È un giorno molto felice e ricche. È anche il giorno della tua bandanza. Mi manchilai. E tu? Buongiorno Giovanni, sono Vistina. Ti ha insegnato bene. Mi manchilai. Ciao ciao. Ciao Giovanni, sono Elisabetta. Sei un bravo insegnante. Projaggio. Ciao ciao. Buongiorno Giovanni. Sono Susana. Sono Lea Badde conoscerti. Sei un insegnante. Molto bene. Bon viaggio. Buongiorno Giovanni, Michele, Silvia. Sei un insegnante. Bravo Alice. Buongiorno Giovanni. In generale sei molto simpatico per me, è un piacere di conoscerti, alla fine di augurare un futuro ricci. Ciao, sono Stella, è un piacere di conoscerti, sei un italiano alla prossima. Ciao, sono Vittoria, benvenuto in Cina ancora, spero di ricordarti in italiano, mi mancherai. Mi chiamo Maria, ti chiami Giovanni, siamo amici, non dimenticare, dimmi. Ciao Giovanni, sono Luna, le due lezioni sono molto diventate, mi piace tanto, ma cina è un buono posto, benvenuto ci arriva spesso, in cui ci vado in Italia. Ciao Giovanni, sono Giovanni, grazie per l'insegnare, grazie per l'insegnare. grazie per l'insegnare, grazie per l'insegnare. Ciao Ciao Giovanni, sono Viola, sei molto simpatico, ogni volta voglio scappare le idee con te, ma spesso non so come dire. Allora, quando arriviamo in Italia, possiamo mettersi in contatto con te. Bye! Ciao Giovanni, solo sei il primo italiano, grazie a te che ci insegno la meta di un mestre. Noi molto presente con noi, di te mi affatto capire con i italiani il rato ottimista. Noi sono i vieni, di mondo, una sedione, di soli, 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 di soli. Non ci insegno la meta, maggiore sudi, di soli, di soli, di soli, di soli, di soli, di soli, di soli. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.